Ma tu, ami più me o il Milan? Ma ci, ma per l'amore ti fanno i paraconi adesso. Che me ne fai con il Milan dell'Indo? Ragion, io quando sto con te, il Milan nei calci non mi passa neanche per l'anticamma di cervello, neanche per la testa, ma neanche qui per il coppino e per l'orecchio. I giocatori del Cagliari si sono accalcati attorno all'arbitro, che però è irremovibile. Ecco Jordan che assesta il pallone sul descritto, prende la rincorsa e tira, gol!